La storia della Signoria Tifernate dei Vitelli, con il fascino della vicenda di uno dei suoi più importanti esponenti, quale è stato indiscutibilmente Alessandro, è stata rivissuta in maniera davvero emozionante tra i magnifici affreschi del Salone dei Fasti di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, in occasione della presentazione del romanzo dal titolo L'Eredità Medicea, scritto da Patricia De Baik van der Not. All'iniziativa, curata dall'Associazione Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, con il patrocinio del Comune di Città di Castello, come prima tappa di avvicinamento al XVI Mostra Mercato Nazionale del Libro Antico e della Stampa Antica, in programma dal 2 al 4 settembre, hanno partecipato tantissimi appassionati di storia e cultura cittadina che hanno gremito la sala. Insieme al Sindaco e al Vice Sindaco Tifernate, il pubblico ha ascoltato e apprezzato le suggestive ricostruzioni storiche fatte dal presidente dell'Associazione Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, Fabio Nisi, e dal presidente dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea e docente dell'Università degli Studi di Perugia, Mario Tosti. Protagonisti sotto il coordinamento dei lavori del responsabile scientifico della Mostra Mercato Nazionale, del Libro Antico e della Stampa Antica, Giancarlo Mezzetti, di un vivace dialogo con l'autrice sulle vicissitudini della famiglia Medici del Granducato di Toscana e sul ruolo da protagonista che il comandante dell'esercito imperiale Alessandro Vitelli ebbe nella salita al potere di Alessandro De Medici, prima e di Cosimo De Medici. Poi, dobbiamo alla famiglia Vitelli molto di ciò che la città rappresenta oggi sotto il profilo urbanistico, artistico e culturale, per cui rivisitare la sua storia leggesta dei suoi componenti è fondamentale per riscoprire le radici della nostra storia, della nostra cultura, della nostra tradizione. Hanno sottolineato il sindaco, il vice sindaco, nel mettere in evidenza l'efficacia della sindesi che la mostra al mercato nazionale del libro antico e della stampa antica rappresenta tra il recupero delle tradizioni della città legate alla tipografia e alla letteratura e le azioni per la riscoperta dell'identità della comunità tifernate portata avanti dall'amministrazione comunale. Con il mio romanzo attribuisco ad Alessandro Vitelli, che rappresenta il perfetto condottiero del Cinquecento, il merito di aver costruito il grande Ducato Fiorentino, grazie al contributo fondamentale dato da vero uomo di potere all'ascesa di Cosimo Demetici, ha sottolineato Patrizia De Baic-Vandernot, che ha condiviso con le autorità e il pubblico la sincera emozione per la possibilità di presentare la propria opera nella città e nel palazzo della storica famiglia tifernate, alla quale tanto si è appassionata.